Bentornati su MyFootballJersey! Oggi vedremo insieme la seconda maglia del Benfica per la stagione 22-23 in edizione FUN! La maglia da calcio away adidas Benfica 2022-23 combina il colore principale giallo con il nero per i loghi. Il colore principale giallo è probabilmente ispirato alla maglia da trasferta del Benfica della stagione 1998-99. La maglia da trasferta è dotata di un motivo unico sul davanti che ricorda la maglia dell'Arsenal Bruised Banana e della maglia di casa dell'Arsenal 2020-21. Ispirato alle iconiche linee del tram di Lisbona, un logo personalizzato appare sulla parte superiore della schiena della nuova maglia. Gli inserti in match sotto le braccia e la tecnologia anti-umidità AeroReady assicurano il massimo comfort ai tifosi. Questo prodotto contiene il 100% di materiali riciclati ed è solo una delle soluzioni di adidas per la lotta contro l'inquilamento causato dai rifiuti plastici. Wow! Questa maglia è veramente molto bella! Nella mia classifica questa prende 4 stelle fatta molto bene con tutte le rifiniture giuste e le cuciture che non danno fastidio e le patch applicate nel modo corretto. Qui in alto vedete il prezzo. Che altro aggiungere se non che è un prezzo veramente molto basso. E peraltro vi ricordo che in descrizione qua in basso trovate tutti i riferimenti per acquistare la maglia. Ora vi lascio alla parte finale in cui vedrete la vestibilità e le misure. Nel frattempo spero che possiate regalarci un like e iscrivervi al canale. Ci vediamo alla prossima! Ciao! Io sono alto 1,75 m e peso 70 kg circa. Quella che vedete è una taglia media della versione Fan.